La cresta spoglia, una parete alta 300 metri a suo tempo considerata inaccessibile con qualunque mezzo. Attualmente esiste una nuova generazione di atleti che non soltanto tentano di scalare questa parete ma di riuscirci senza alcun aiuto meccanico. Viene impiegata una corda di assicurazione, tuttavia ogni centimetro in altezza viene conquistato servendosi unicamente di mani e piedi. Attento Beth! Sto cadendo! Conosco un solo modo per diventare più forti, lavorare sodo. Sto cadendo! 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 Grazie a tutti.